Eccoci qua, torniamo adesso con un altro giornalista, comunicatore, anche esperto di comunicazione da parte delle aziende e per le aziende. Gian Paolo Colletti è con noi. Buon pomeriggio. Diciamo quasi buonasera, Gian Paolo Colletti è direttore di Startup Italia e firma del Sole 24 Ore sui temi soprattutto della comunicazione digitale, del marketing digitale, perché ha raccontato, racconta su Sole 24 Ore tantissimi fenomeni che si sono sviluppati nel corso di questi ultimi anni, dall'influencer a tutta l'evoluzione del mondo social e di come questo poi ha un impatto sulle nostre vite ma anche sulle scelte, sui comportamenti delle aziende. Gian Paolo, c'è anche un'altra cosa che voglio ricordare. Ormai sono dieci anni, circa dieci anni fa, ha fondato la prima community di lavoratori della rete. V-Workers. V-Workers. V-Workers che era allora qualcosa di abbastanza, come dire, anticipatorio di alcuni fenomeni, di alcune tendenze. Quindi, alla luce di tutte queste tue esperienze, visto che tu sei tante cose, che cos'è la comunicazione costruttiva nel tuo lavoro, nella tua attività? Tanto grazie dell'invito, grazie del premio e felice di essere qui con tanti colleghi. Cos'è la comunicazione costruttiva? Intanto è un legame col digitale che è anche fisico, cioè il digitale parla nei luoghi che abitiamo, negli spazi di tutti i giorni, nei luoghi di lavoro, nei momenti di intrattenimento, nella vita quotidiana. Anche V-Workers è nata, tra l'altro, grazie al prezioso supporto di Antonio Palmieri che ci ha ospitato tanti anni in quella che lui stesso, quando noi andavamo lì, definiva la casa del popolo, no? A Montecitorio con l'ingresso di tantissime storie di artigiani digitali che avevano un forte legame con la rete, quindi utilizzavano internet per presentarsi, per raccontare quello che facevano, per vendere online e anche per relazionarsi con pubblici anche molto lontani, ma avevano un forte legame con il territorio, con la comunità, con le radici. Allora, la comunicazione costruttiva può partire proprio da questo legame con i territori, con il nostro legame anche valoriale, il passato che si ricongiunge in qualche modo al futuro. Un paio di giorni fa, sulle pagine del Sole, la domenica ho raccontato la storia di questo street artist, si chiama Greg Goya, ha 25 anni e lui parte da ripensare a Torino i luoghi conviviali, mandando dei messaggi che però sono messaggi anche fisici e che nascono nei luoghi di aggregazione di quella generazione Z che è inafferrabile, che però in quei luoghi riesce lui stesso a intercettare. Allora, ripensare il digitale in una maniera circolare, anche partendo dai luoghi di ritrovo, può essere una chiave per leggere anche le evoluzioni di questo fenomeno, anche alla luce dei dati che ci ha raccontato Lorenzo pochi minuti fa. Tu ci stai dicendo però, secondo me, una cosa molto importante, che il digitale non è qualcosa di altro rispetto al fisico. Anzi, io da anni dico che la differenza è tra materiale e immateriale, ma è parte della nostra vita. Ormai non c'è più la distinzione che è stata fatta per tanti anni tra fisico e digitale. Semmai tra materiale e immateriale che però poi hanno degli impatti concreti sulla realtà. Tu ci hai fatto adesso un esempio rispetto a un luogo di intrattenimento, ma questo vale per qualsiasi altro ambiente. Dall'ambiente di lavoro, l'abbiamo visto, agli ambienti di studio o di intrattenimento che tutti noi frequentiamo. Ecco sì, assolutamente. Riuscire ad abbattere questi silos, Giovanni, ci permette di capire la rilevanza del digitale e anche la necessaria consapevolezza, perché essere in un ambiente digitale non ci fa essere in un ambiente altro dove tutto è possibile. Siamo in un ambiente dove ci sono determinate regole del gioco, del vivere civile, che è quel vivere che noi abbiamo tutti i giorni. Però quel digitale si può scalare grazie alla forza della rete, proprio partendo dai territori. Una prima storia che avevamo raccontato con Antonio Palmieri dieci anni fa era la storia di questo Stefano Caccavari, che in Calabria aveva recuperato l'ultimo mulino in pietra, facendo un crowdfunding, all'epoca su Facebook aveva raccolto quasi 800 mila euro e ha riattivato una filiera del grano senatore Cappelli, ma ha riattivato un modo di lavorare che partiva dal digitale e tornava al luogo fisico. Allora questo legame fortissimo con le comunità, comunità di lavoro, comunità di pratica, forse è una chiave di lettura per ripartire nel pensare la comunicazione costruttiva. Grazie, io direi di ringraziare Giampaolo Polletti per questo messaggio, per questa dimensione che ci stai portando della comunicazione costruttiva e per il lavoro che continui e continuerai a fare. Grazie, grazie Giovanni, grazie. Allora vediamo se trovo, eccolo qua, il premio di Giampaolo. Grazie, grazie. 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 Grazie.